Ci troveremo tutti alla cooperativa Tre Ponti di Fano per festeggiare insieme i soci e i volontari e anche gli ammalati e fare una domenica di condivisione. Abbiamo un menù molto ricco a soli 15 euro e ci sono anche in vendita i biglietti della lotteria di beneficenza. Ci sono dei bei premi, c'è una scultura della scultrice Marisa Lambertini, ci sono due biciclette, c'è il prosciutto, c'è la tv, ma al di là dei premi è un'occasione per raccogliere dei fondi per le nostre attività. Quest'anno abbiamo voluto fare una cosa diversa dagli altri anni, proprio su impulso dei giovani e dei malati, cioè tenere il prezzo contenuto e anziché fare la sera fare il pranzo in modo tale da dare la possibilità di stare più insieme a chi non può far tardi e farlo più vicino alla città in maniera tale da rendere più agevole la partecipazione delle persone più svantaggiate.